Grazie, Presidente. Brevemente, questo regolamento ci ha visti impegnati in una rivalutazione degli aspetti tecnici e politici in esso contenuti molto approfondita, con una difficoltà in più, quella di raccogliere le indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la quale sancisce il principio della trasversalità, al fine di realizzare condizioni di pari opportunità per le persone con disabilità in tutti i settori della vita cittadina. Scrivere un regolamento che regola il trasporto di persone con disabilità ha bisogno di un'analisi che riguarda sia aspetti legati alla mobilità, al trasporto, sia quelli che riguardano le politiche sociali. Era importante comprendere a fondo gli impatti del regolamento in entrambi questi ambiti, cercando continuamente una sinergia, un punto di incontro tra le necessità e i limiti definiti da uno e dall'altro. È fondamentale che ogni singolo atto di questa amministrazione tenga conto dei diritti delle persone con disabilità, uscendo fuori dalla logica del bisogno o, peggio ancora, dell'emergenza. La disabilità non è un mondo a sé, di cui occuparsi di tanto in tanto, con interventi isolati e non inseriti in un'ottica di sistema, ma va inglobata a pieno e in maniera concreta in tutte le iniziative, le scelte e in tutti i settori dell'amministrazione. Sappiamo quanto questo obiettivo possa essere complesso in una città come la nostra, la quale per sua conformazione e purtroppo a causa di scelte sbagliate del passato o, peggio ancora, di immobilismo, presenta numerosi ostacoli e barriere che è necessario abbattere, comprendendo anche quelle culturali, a mio avviso. Ma la nostra amministrazione creda fortemente in questo cambio di paradigma e infatti sta già andando e andrà sempre in questa direzione. Per questo, ovviamente, voteremo favorevolmente la proposta di deliberazione. Grazie.